Ad oggi sono accolte più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo. Sono i dati resi noti dalla Viminale che ha diffuso un dossier in cui, attraverso una serie di domande e risposte, spiega le ragioni e le finalità del decreto immigrazione, convertito in legge del 1 dicembre scorso. Nonostante l'attuale riduzione dei flussi, si legge nel dossier, oggi 80% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è significativo il numero di immigrati che insiste nel nostro territorio, sia per l'elevato numero di sbarchi del passato che per la prolungata presenza di richiedenti asilo, con un forte impatto sui territori. Le nuove norme, prosegue il documento, sono un importante tassello di una più ampia riforma della gestione del fenomeno migratorio, in un'ottica di rinnovato approccio alle evidenti criticità di questi ultimi anni, caratterizzati dai consistenti arrivi. Spazio anche al sistema Sprar che resta, ma che verrà ottimizzato.